Più che parlare di relazione antimafia, ci aspettavamo veramente l'elenco degli amministratori e degli esponenti di questi partiti arrestati per Drangheta. Pezzi grossi della politica e delle istituzioni che sono scese a patti con la Drangheta. E durante le elezioni regionali in Calabria c'era sempre questo Presidente del Consiglio Renzi che era venuto a Scalea a promettere la lotta alla mafia. Quando il Movimento 5 Stelle durante quelle elezioni era l'unica forza politica a denunciare che le elezioni regionali erano già inquinate perché un'inchiesta della DTA di Catanzaro diceva che un esponente di alto livello del centrodestra era un politico che aveva pagato 200.000 euro per avere voti della Drangheta. La ringrazio adesso il collega Di Steffi.